ciao ragazzi allora è passato il pranzo pasquale mi sto facendo una bella fumata la mano a mano sono arrivato sorpassato di poco la metà di un buon toscano originale fatto a mano sigaro nato nel 1985 perché si voleva offrire al pubblico un sigaro costruito secondo i canoni delle tecniche di produzione ottocentesche a partire dagli anni sessanta tutti i sigari toscani dal monopolio vennero fatti a macchina questi invece ancora oggi vengono prodotti interamente a mano e secondo me è un buon sigaro ancora molti lo disdegnano però devo dire a me non dispiace fumarmelo di tanto in tanto soprattutto in occasioni come queste dove ho mangiato tanto ci sta tutto ci sta tutto molti di voi lo sanno già il ripieno è medium filler quindi il trinciato ha una pezzatura più grande perché permette una maggiore oh c'è vento il che dicevo permette una maggiore varietà nella percezione degli aromi che vanno dal legnoso all'erbaceo a sentori leggermente speziati delle note mandorlate che a me piacciono tantissimo perciò secondo me un sigaro assolutamente onesto è un po aumentato di prezzo sono 6 euro e 90 per due sigari però secondo me il prezzo ci sta ancora nel percorso di un toscanofilo è il passaggio forse a qualcosa di un po più di serio perché è un sigaro che va gestito e questo sì abbastanza meditativo però ecco io non lo trovo pesante ha perso forse un potenza rispetto al passato però ripeto è sempre secondo me un buon sigaro vi chiederei nei commenti di dirmi se vi piace ancora anche a voi ma molto liberamente potete dire pure che fa cagare ma ci sta ci sta perché ognuno deve dire quello che pensa senza troppi filtri ma poi stiamo parlando insomma di fumo dobbiamo parlare di ciò che ci piace e non ci piace ci tenevo a farvi gli auguri di pasqua e niente quindi forse ho detto già tutto quello che dovevo dire però un abbraccione un abbraccione e vi auguro anche a voi grandissime mangiate sculente mangiate anche per pasquetta forse questo video uscirà a pasquetta forse stasera non lo so comunque ciao